Nel panorama della pubblica amministrazione italiana, l'innovazione è la chiave per costruire un futuro migliore. In questo contesto nasce il progetto PAOK, un contesto dedicato a quelle amministrazioni virtuose che abbracciano la cultura dei risultati e del cambiamento. PAOK premia i progetti innovativi delle amministrazioni che migliorano la qualità dei servizi e il benessere della collettività. Le amministrazioni possono presentare i progetti in sette ambiti chiave. Semplificazione amministrativa, digitalizzazione, sostenibilità e transizione ecologica, efficientamento energetico, innovazione sociale, inclusione, fragilità, lavoro e sviluppo economico, innovazione gestionale. Per candidarsi visita il portale www.paok.formez.it e completa la registrazione. La partecipazione al contest PAOK offre l'opportunità di entrare in una rete d'eccellenza e condividere esperienze. Contribuisci al cambiamento e fai sentire la tua voce. Invia la tua candidatura e il tuo settembre 2024.